Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Non perdete tempo, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. Il mondo di Amici 20 è nuovamente scosso dalle voci che circolano sui social, Sissi e Dario si sono lasciati. Tuttavia, sembra che la situazione sia ancora più complessa, poiché la ballerina potrebbe aver riavvicinato il suo cuore a un ex molto speciale, il cantante dei BNKR44. La storia tra Sissi e Dario sembrava essere un sogno che si realizzava, ma ora gli indizi di una possibile rottura sono iniziati a emergere. I fan hanno notato la mancanza di foto insieme sui loro profili social, alimentando ulteriormente i sospetti. Ma la vera sorpresa è arrivata con le voci che indicano un presunto ritorno di fiamma tra Sissi e Kaf, il cantante dei BNKR44, con cui aveva avuto una storia prima di incontrare Dario. Una pagina di Gossip su X ha pubblicato una chat privata che sostiene di aver avvistato Sissi uscire dall'auto dei BNKR44, alimentando ulteriormente i pettegolezzi. Tuttavia, al momento, queste sono solo indiscrezioni. Sissi non ha commentato la situazione e fino a quando lei o Dario non confermeranno o smentiranno queste voci, tutto rimarrà avvolto nel mistero. Resta da vedere se i diretti interessati decideranno di rompere il silenzio o se terranno i loro segreti ben custoditi. Una cosa è certa, i fan di Amici 20 sono ansiosi di scoprire cosa riserverà il futuro per questa coppia così di Amata e discusseranno avidamente ogni nuovo sviluppo.